Peripezie Dopo tante peripezie Ce l'abbiamo fatta E niente si è il primo concerto Primo concerto Guarda abbiamo due session che abbiamo fatto al Kate Che è uno studio di Roma Kate Create Studio Che salutiamo gli amici del Kate Abbiamo fatto due session Però Davide non c'era Davide non c'era e quindi prossimamente Loro ancora non lo sanno Però ieri ho preso contatti Con un altro gruppo E faremo una collaborazione Con un altro gruppo Ci diamo a reggae A posto Loro ancora non lo sanno E faremo sì Penso un EP verso marzo E prima di questo EP penso che usciranno Altre due sessioni Un romantico Un romantico Un romantico Sì in generale Stiamo parlando un po' della vita A presto Un romantico No! 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 è pure il gioco nel proprio gioco e vabbè, questo è un gioco è un po' per il gioco vivevamo insieme l'anno scorso con il cantante, insomma e... provando così mi ha fatto sentire qualche pezzo e abbiamo deciso di portarlo, in elettrico siamo arrivati per il carico amico sempre a buraco, è una cosa che si deve sapere da tutto il mondo Facciamo pop rock, speriamo vi piaccia, andateci ad ascoltare su Youtube Vabbè infatti andate a vedere le due session, la nostra è Mary Ann e l'altra è Deficence E faremo anche altre in breve, ci sono già delle collaborazioni in vista Voi dovete sapere che ormai sono diventato il manager di Deficence Che bello! Cioè se noi fossimo al posto 2 che cosa interverreste? Chi intervisteresti e cosa chiederesti? Ah un personaggio famoso, no no, falli passare Ah passare dai Ciao Posso andare? Chi inizia regà? A me la prima cosa mi viene in mente, bene? Io già ne ho pensato Io ora intervistarò Ma così E chiedergli? E chiedergli cosa si prova ad essere il re del porno Tu? Chiederami ragazzi Fa così E poi Come stai? Poi Poi Ma io intervisterei i gol di Quindi qua Porca miseria Anch'io Insieme Siamo insieme E faremo io con la camera e lui con la camera E cosa chiederesti? Tu li riprenderesti? Come li riprenderesti? Come li riprenderesti? Come li riprenderesti? Campolungo? Allora direi Da dove ho finito? Da dove erano quelle canzoni? Veramente Come fanno arrivare i gol Quanto è stato sicuro? Quanto è stato sicuro? Quanto è stato sicuro? Ciao 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 Grazie per i tuoi like Per le tue visite Un saluto sui Tiziano One Two Three We are the swordies We're gonna say hello to you Yo Going back to the Ciao